FIOPS e Città Metropolitana hanno deciso di mandare una lettera ai comuni della Città Metropolitana sul tema della residenza fittizia. FIOPS è un'organizzazione che riunisce, è l'organizzazione italiana che riunisce gli organismi per persone senza dimora e al suo interno riunisce enti pubblici, associazioni del privato sociale, associazioni di volontariato, quindi in realtà anche molto diverse da loro, che si occupano del contrasto all'homelessness, alla povertà estrema. E come comitato territoriale di FIOPS, che in questo momento sto coordinando, abbiamo scelto di fare questa iniziativa di advocacy, quindi per cercare di promuovere e garantire i diritti delle persone senza dimora, perché nonostante la residenza sia un diritto e sia un dovere dei comuni garantire l'istituto della residenza fittizia, ad oggi in Italia sono pochissimi ancora i comuni che la garantiscono.